Ciao, io sono Ale, benvenuti e benvenute in questo mio nuovo video. Questa sera ho deciso di fare un video abbastanza a chiacchiericcio, ma con due draggers che ho voluto riportare dopo veramente tanto tanto tempo. E si tratta principalmente di questo, ossia del suono dei guardi, che andrò a farvi sentire un pochettino proprio, mentre parlerò, mentre sussurrerò in a whispering, un altro trigger e poi un altro suono, un altro trigger invece lo farò più avanti nel video. Magari poi vi metto anche i time stamps, così potete vedere appunto per quanto ci sarà questo trigger. E si tratta del bastone della pioggia che veramente non porto da tantissimo tempo in un video. E allora in realtà oggi per far sì che comunque non ci sia uno sfondo con un'illuminazione eccessivamente chiara, eccessivamente forte, che so che insomma non a tutti piace, oggi ho cercato proprio di fare una notte setta affinché l'illuminazione possa essere molto, molto bassa anche sulla sfondo. Chiaramente avete il muro vicino alle spalle, è abbastanza difficile, diciamo avere uno sfondo proprio scuro, però comunque in questo caso la luce è abbastanza soffusa, e quindi ho solo una lampada con una luce abbastanza bassa in una cartina da questa pallata che fa questo effetto un po' a ragione un po' autunnale, che appunto mi aiuta ad illuminare un pochettino il viso. Oggi nel redatto del giorni scorre si è arrivato ufficialmente l'autunno, finalmente perché io veramente lo sto aspettando da un po', chi mi segue da un po' sa che io non avevo particolarmente il caldo, e per quel punto sono felice che sia arrivato un po' al fresco. In particolare oggi è stata una giornata molto, molto ucciosa e anche un pochettino piovuto, cioè un pochettino anche piovuto. Infatti proprio per questo motivo, siccome uno ha smesso e non si sente confini sul tipo di suono, ho pensato a un punto che potesse essere carino riportare il triccola del bastone della pioggia. Quindi appunto ho deciso di portare questo, visto che appunto la pioggia è scattata. Per l'altro è proprio un classico, un classico di video ASMR, che quando si vuole fare un video magari con le sottofonte della pioggia, perché comunque un video di sussurri o comunque ci sta, la pioggia non c'è mai. Quante invece magari bisogna registrare un roleplay piuttosto che un video che comunque non so come sarebbe meglio se non ci fossero rumori ovviamente, appunto il teppio, il tempo orale, eccetera 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 eccetera. Sento che il suono di questi quanti sia piuttosto piacevole. Il suono di questi quanti piuttosto piacevole. Quindi qualche piuttosto piacevole. Inoltre. No. Inoltre. Quindi, anche a tutti. No. 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 Devo dire che questo suono era particolarmente bello che ho realizzato direttamente sulla capsula della Blue Yeti però, ora diciamo che voglio anche parlare un pochettino, comunque non voglio incettrare, cioè voglio che il video sia incettrato sul suono dei guanti e però effettivamente potrei guardare un altro video proprio di quelli dedicati ai suoni realizzati sui Blue Yeti che mi piacciono tantissimo. Anche se, a dire il vero, qualche tempo fa mi piaceva tanto addormentarvi con questo genere di video, appunto, magari di triggers sul Blue Yeti o comunque sul microfono, mentre devo dire che ultimamente sto guardando un po' di video di sapere proprio per un fattore di... già per il fatto che comunque non tutte le sere le guardo, comunque magari le guardo un pochettino però dopo magari le uso principalmente per dormire ecco e però per addormentarvi in questo video in realtà mi piaceva ascoltare i video di mouth sounds o comunque whispering vicino al microfono come questo, intervallato magari con qualche taricchero però però diciamo che i mouth sounds in particolare sono quelli che per me funzionano, nel senso che riesco a sentire qualche tingles a volte e poi appunto riesco ad addormentarmi un pochettino più facilmente. appunto ovviamente questo non toglie che i video con i triggers sul Blue Yeti vi piangiano ecco. a me piace un sacco questo trigger perché comunque è abbastanza delicato, ma allo stesso tempo abbastanza delicato, ma allo stesso tempo abbastanza caricol, rubido, cioè vi senti che è comunque una sorta di scratching, ma appunto è piuttosto delicato. akerta Rolto 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 . . . . . . . . . ... ... ... sentite che questo, diciamo, ha una sorta di attrito tra le dita ok 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 faccio anche un pochettino di visual trickle di hand movements abbinate un pochettino di questo suono rilassante e tra poco, invece, passeremo al bastone della pioggia e durante quell'asse del video, ovviamente, io non parlerò perché è un suono piuttosto forte che andrebbe a coprire la voce di conseguenza, appunto, non parlerò e spero che comunque l'effetto del trigger vi piacerà e vi vorrei rilassare però ovviamente ci vediamo poi per la buonanotte alla fine del video con appunto la buonanotte e qualche hand movement hand movement, hand movement, hand movement se vedete questo effetto strano che a me mi s'illuminò le dita perché appunto c'è una lampada messa qui in maniera trasversale, diciamo per fare un po' di luce e quindi per questo effetto ma noi ci rivediamo da l'attare due uno un po' di luce 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 A presto. 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 A presto.